Una tipologia di applicazioni che oggi richiede l'intervento dell'automazione sono sicuramente quelle legate al mondo della finitura superficiale, perché allo stesso tempo possono essere potenzialmente gravose per l'operatore, ma richiedono un elevato livello qualitativo. Realizzare con il robot operazioni di sbavatura, carteggiatura o smerigliatura non è una cosa semplice, principalmente perché risulta complesso riuscire a mantenere una forza costante sul prodotto da lavorare ed assecondare eventuali differenze dimensionali legate alla geometria dei pezzi o delle bave da dover processare. Quello che Shunka ha sviluppato per superare questi ostacoli è creare una gamma di utensili di finitura superficiale compensati, ovvero equipaggiati con un sistema di compensazione che grazie alla regolazione dell'aria compressa permette al robot di mantenere sempre la stessa forza sulla superficie in lavorazione e grazie alla sua escursione è in grado di assecondare eventuali differenze dimensionali che possono esserci tra un pezzo e l'altro. La gamma di utensili Shunka di finitura superficiale comprende soluzioni per la sbavatura, come il nuovo RCV con compensazione radiale, idoneo in funzione della taglia scelta di lavorare materiali che vanno dalla plastica o materiali compositi fino all'acciaio e alla ghisa. Soluzioni per la spazzolatura con compensazione sia radiale che assiale, come i nostri MFTR ed MFT. Soluzioni per la limatura, come tool alternativo CRT a compensazione radiale. Soluzioni di carteggiatura e lucidatura, come il nuovo AOV, utensile roto-orbitale a compensazione radiale. Soluzioni di compensazione universale, come il nuovo PCFC, in grado di rendere compensato qualunque tool che venga adesso collegato. Grazie a queste soluzioni oggi Shunka è in grado di soddisfare le esigenze delle più complesse applicazioni di finitura superficiale robotizzata.